Sono Lucrezia Toninelli e sono qua in rappresentanza della Poderia di San Pietro, in particolare faccio parte della terza generazione della famiglia Toninelli. Mi partecipo a questi Oscar Green con il vino affinato in fondo al mare, in particolare abbiamo mandato la nostra doc, il rosso di Val Vissera, ad affinare 30 metri sotto il livello del mare. È un affinamento alternativo che non tutti i vini possono subire, ma appunto solo i vini con una certa complessità di struttura. Il vino viene fatto affinare in fondo al mare in Croazia, a 30 metri sotto il livello del mare, e in particolare la tecnica che viene utilizzata è particolare perché viene emesso in dei cestoni dove le bottiglie sono una separata dall'altra, quindi tutti hanno contatto a 360 gradi con l'acqua e hanno un continuo alleggiamento sott'acqua. Il vantaggio di questo progetto sul nostro prodotto è che va a accelerare il processo di invecchiamento del vino. Infatti, avendolo ottenuto sei mesi sotto il livello del mare, troviamo un vino molto più elegante rispetto a che tenerlo sei mesi in cantina. Qua a San Colombano noi condividiamo sia vitigni internazionali come lo chardonnay, come bianco, invece come rossi, il merlot, il cabernet sauvignon, recentemente abbiamo piantato noi come azienda del Syrah, ma soprattutto anche dei vitigni on top. Qua siamo nella nostra cantina e in particolare ci troviamo con le nostre ampore. Queste sono delle ampore di grass porcellanato e la particolarità di queste è che permettono un'ossigenazione del vino senza rilasciare sentori, in quanto il grass porcellanato risulta un materiale neutro.